a 60 gradi, io ci ho lavato la mia maglietta preferita e i colori? Un disastro. Poi Claudia mi ha detto, i colori si lavano a 30 gradi ma con omino bianco color, aggiunto al detersivo. Oh, le macchie vanno via! E i colori perfetti! Omino bianco color, a 30 gradi, via le macchie, colori perfetti.